In Campania, sul posto di lavoro, si muore e ciò accade con maggiore frequenza rispetto al resto del paese. A dirlo è il report dell'osservatorio Vega, che colloca la nostra regione in zona russa e ci parla, per il primo semestre del 2024, di un quadro drammatico. Il nostro territorio regionale presenta un'incidenza superiore al più 25% rispetto alla media nazionale. Già 35, infatti, le morti bianche. Una strage senza fine e alla quale non si riesce a purre un argio. Scenario che si fa sempre più allarmante poi se si guardano i dati nazionali, che raccontano di 469 vittime con un incremento del 4,2% rispetto all'anno scorso. Maglia nera alla Lombardia. A farne le spese principalmente i lavoratori del settore delle costruzioni, che ancora una volta si dimostra come l'ambito più letale. Seguono le attività manufatturiere, i trasporti ed il magazzinaggio e chiude la lista il commercio. Anche nei primi sei mesi dell'anno, l'osservatorio Mestrino ha elaborato l'identikit dei lavoratori più a rischio per fasce d'età. Nemmeno sotto questo punto di vista, buone notizie. L'incidenza più elevata, infatti, si registra proprio nella fascia degli ultra 65 anni, seguita da quella di operai compresi tra i 55 e i 64 anni. Insomma, a morire sono principalmente gli anziani. Significativi anche i numeri riguardanti gli stranieri, soggetti ad un rischio di incidente mortale quasi triplo rispetto a quello degli italiani. Cresce, anche se di poco, 0,9%, il numero degli infortuni totali.